Ho fatto già il video dove mostro come installare Excel GPT Pro che potrebbe dare qualche problema di compatibilità a seconda delle varie situazioni. Quindi vediamo come risolvere i problemi di compatibilità. Quello che vedrai in questo video si applica anche a qualsiasi altro componente aggiuntivo di Excel. Per carità questo è un video eventuale però dai vediamo subito il problema più comune. Download file appena scaricato tasto destro sul file proprietà annulla blocco qua in alto. Prima scheda siamo in generale qua c'è un blocco che viene applicato normalmente per ragioni di sicurezza. Applica ok voilà questo dovrebbe risolvere quasi tutti i problemi di compatibilità. Entriamo dentro Excel il metodo migliore è tasto destro personalizza barra multifunzione e siamo qui dentro altrimenti il solito file altro opzioni e apre la stessa finestra di dialogo. Semplicemente credo qui in generale però è identica è la stessa. Noi andiamo in centro protezione qualsiasi percorso tu voglia scegliere impostazioni centro protezione e vediamo un po partiamo dai componenti aggiuntivi. Probabilmente in passato avevi frugato qua dentro ok rimuovi i blocchi e cataloghi di componenti aggiuntivi anche qui rimuovi i blocchi se presenti. Di default non ci sono però è probabile che tu abbia messo mano o che qualcuno in azienda ci abbia messo mano. Poi andiamo qui impostazioni delle macro attiva le macro so che è una scelta non consigliata ma tu non ti preoccupare non in questo caso. Se c'è la spunta al 4.0 toglila e poi metti la spunta a considera attendibile l'accesso al modello a oggetti dei progetti WBA. Poi probabilmente come me hai la visualizzazione protetta la puoi tenere non è un problema il problema è i messaggi devi poter vedere i messaggi quando hai una visualizzazione protetta. Quindi barra dei messaggi qui e assicurati di mostrare i messaggi poi contenuto esterno anche qua assicurati che ti venga richiesta la conferma in tutti i casi. Se vuoi mettere in pausa e copiare queste impostazioni lo puoi fare. Poi impostazioni blocco file qua credo vadano bene le mie impostazioni eventualmente copiare. Premi su ok premi di nuovo su ok. Adesso puoi aprire e richiudere excel ti dovrebbe apparire qui eventualmente un messaggio abilita la modifica e abilita il contenuto. Abilita entrambi a me non apre niente non so come farmi apparire questi messaggi in notifica e eventuali. Andiamo su file altro account esegui l'aggiornamento eventualmente aggiorna anche il sistema operativo dovresti saperlo fare tasto di windows impostazioni aggiornamento e sicurezza verifica disponibilità aggiornamenti. Aggiorna il sistema operativo aggiorna anche office se continui ad aver problemi premi qui su informazioni su excel ok abbiamo excel o meglio office a 64 bit. Perfetto andiamo sul pannello di controllo lo trovi su start o eseguendo qui una ricerca non è un problema credo che di default tu veda le categorie tu metti icone grandi o piccole io sto mettendo grandi per fare il video sistema e in ordine alfabetico lo trovi facilmente. Perfetto 64 bit anche questo se il mio sistema operativo è a 64 bit e office a 32 o viceversa quindi sistema 32 e office a 64 ovvio che avrò dei problemi quindi eventualmente deve disinstallare office e scaricare la versione con il numero di bit corretto ovvero quello del tuo sistema operativo. E' scritto qui un'altra cosa che puoi fare è chiudere excel e aprirlo come amministratore possiamo fare un test tasto di windows troviamo excel tasto destro su excel altro esegui come amministratore amministratore e siamo dentro dopodiché possiamo andare su file apri sfoglia e da qui possiamo aprire i file che vogliamo. Aprendo excel come amministratore possiamo fare un test se funziona e abbiamo risolto i nostri problemi di compatibilità semplicemente aprendo excel come amministratori possiamo impostare l'apertura come amministratore di default come si fa tasto di windows troviamo excel tasto destro sull'icona di excel andiamo su altro apri percorso file ed eccoci qui in questo caso io ho un collegamento quindi tasto destro proprietà vado nella scheda collegamento vado in apri percorso file ed ecco qui excel vero e proprio tasto destro proprietà compatibilità metto la spunta qui esegui questo programma come amministratore dopodiché dovrei premere applica e ok io adesso premo a nulla perché non ne ho bisogno. Infine ti lascio il link alle tabelle di compatibilità di excel gpt pro dagli un'occhiata perché probabilmente hai scaricato il file sbagliato o semplicemente nella tua versione non è disponibile eventualmente iscriviti alla newsletter di excel gpt pro e al canale telegram di excel gpt pro per essere notificato sugli ultimi sviluppi quello che ho detto per excel gpt pro vale anche per qualsiasi altro add in per oggi è tutto e se vuoi avere uno sconto su excel gpt pro link giù in descrizione altrimenti in sovra impressione puoi anche scannerizzare il q a code grazie a tutti